Mauro potresti fare un video analizzando l'impatto che può avere l'imminente risarcimento di Mon Gox, dei BTC di Mon Gox? Credi ci possa essere un flash crash? Mai messaggio e commento su uno dei miei video è stato più azzeccato e soprattutto in timing di Momentum, spettacolare! Qual è l'effetto che si può andare a scatenare? E' esattamente questo qui, cioè un flash crash leggero ma importante, ecco diciamo così, quindi accettabile ancora ma importante perché Mon Gox ha iniziato e avviato proprio la questione dei rimborsi e l'exchange fallito. Cosa significa e che cosa dobbiamo aspettarci? Questo crollo di Bitcoin è collegato alla questione di Mon Gox? Assolutamente sì, ma in quanto, per quanto e come e soprattutto quali sono i livelli che sono stati toccati? Vi ho già mostrato quello che era un'area di mio interesse, ho sbagliato qui, di un mesetto, quasi un mesetto ragazzi. Guardate questo grafico e lo avete visto anche in una serie di video, probabilmente perché ogni tanto mi è spuggito quel grafico lì e insomma, in sostanza, che cosa sta succedendo? Ha finita? Non finita? Ancora, diciamo, dobbiamo fare vent'elocale ma tutto quello che ci siamo detti nei video scorsi e soprattutto nel video di lunedì e mercoledì di questa settimana è stato definito. Chi ha invece taroccato alla grande è stata la moneta BTC che non ci ha preso proprio di una virgola, diceva che salivamo, ma cioè, ma che fai? Ma dico io, ti lancio più, eh. Ciao. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, andiamo a vedere un po' quello che sta succedendo, un po' di movimento sui mercati. La questione di Mon Gox è la questione più importante che dobbiamo andare a vedere oggi, perché sono iniziati i rimborsi e abbiamo visto l'effetto. Questo è un pro, è un male, ma è anche un pro per una serie di motivi di cui parliamo in questo video. Prima di andare avanti, però, vi chiedo, ragazzi, di iscrivervi al canale. Se ancora non l'avete fatto, lasciatemi i pollicioni e sono contento che ci stiamo per mettere alle spalle questa questione legata alla struttura di MT Gox. Questi rimborsi, che sono veramente un botto di Bitcoin, che verranno rimborsati, però già 42.000 Bitcoin sono stati trasferiti e sicuramente moltissimi, già di questi stravenduti in queste giornate. Ne andiamo a parlare tra poco, però prima, ragazzi, vi parlo dello sponsor di oggi, che è CoinCall, che ritorna un po' a parlare di sé per una questione. Ha aggiunto un servizio e un menu all'interno della loro piattaforma interessante, ve lo faccio vedere tra poco. Intanto hanno aumentato, hanno fatto due cose, principalmente. Primo, hanno inserito una serie di opzioni sulle altcoin e sono diventati l'exchange più importante, più grande, relativo alle opzioni di altcoin. E poi, un'altra cosa, hanno aumentato di gran lunga la liquidità, che ancora, diciamo, stentava. Soprattutto, per esempio, sui future più grossi, per esempio, sui future abbiamo un volume oggi di 186-187 milioni di dollari di Bitcoin scambiati. Accettabile, non elevatissimo, ma accettabile. Però, in particolar modo, mi piaceva farvi vedere una funzione che avevano messo, invece, sulla questione delle opzioni. Quindi, andando sul tab del menu option, c'è il tab combo trade. Che cosa significa questo combo trade? È, in sostanza, un elaboratore di strategie sulle opzioni che, automaticamente, va a trovarvi le opzioni adatte per creare quel tipo di strategie. Sono state inserite le strategie più famose relative alle opzioni. Chi, ovviamente, è informato sulle opzioni, le ha studiate, sa e conosce queste strategie. Intanto, c'è la custom che si può fare andando ad aggiungere, per esempio, quelle che sono le opzioni. Andiamo noi ad aggiungere le singole opzioni. Per esempio, mettiamo una colla in acquisto a 57 di strike con scadenza del 26 di giugno. E questo che vedete sulla sinistra sarà l'andamento dei miei profitti. Quello in blu tratteggiato è alla scadenza dell'opzione che qui mi dice che, in pratica, io vado a fare gain da, se il bitcoin arriva a 59 mila dollari, magari non lo vedete in questo momento perché è un po' piccolino. Vediamo se riesco a ingrandirlo, ma poi lo perdiamo. Vediamo un po' se riesco a ingrandirlo così. In pratica, qui vado a fare un 0 a expiry PNL, dovete guardare quello, a 59,4. La 59,4 io guadagno, in pratica, come se ho bitcoin. Qui ho messo 0,1, se mettiamo 1 è come avere un singolo bitcoin. Quindi, in pratica, io perdo fino a quando bitcoin arriva a 59,4, dopodiché guadagno quello che guadagna bitcoin. Quindi partecipo a questo gain con una perdita già definita. Cioè, se va tutto giù, io ho la perdita massima possibile, in questo caso, di 2.396 dollari a singolo bitcoin. Quindi, in pratica, 2.000 dollari di bitcoin, 5% circa, attualmente. E questo, per esempio, è una struttura che si può andare a realizzare. Ma quello che mi interessava farvi vedere, oltre ad andare a inserire quelle lì, che sono le custom, sono le varie strategie. Le straddle, la strangle, la butterfly, l'iron condor, la call put spread, ve li fornai, automaticamente. Con un place order, per esempio, si può andare già automaticamente a inserire. Per esempio, la call put spread è una strategia di opzioni che mi fa guadagnare se vado long, in questo caso perché è una call spread, quindi è sul lato long. Se invece il mercato scende, io perdo però in maniera contenuta. E allora vado qui, per esempio, voglio dire, ok, fammi guadagnare se sale. Questa scade il 12 luglio e avrei un expire P&L di 50 dollari, perché qui ho messo 0,1. 1, facciamo così, mettiamo 1, vediamo se qui ho 500 dollari di gain se vado entro il 12 luglio a salire, oppure perdo 500 dollari se vado a, in pratica, scendere sotto il prezzo di circa 57,6, più o meno, insomma, deve salire di 1000 dollari rispetto ai prezzi attuali. Comunque, era giusto per farvi vedere la questione se volete utilizzare questo tipo di strategie. Sono fighe e ci possono stare, ovviamente vanno manovrate con cura. Andatele ad approfondire, tra le altre cose c'è un'opzione sconto, quindi vi ridanno il 5% del deposito, vi lascio il link in descrizione. Chiaramente è il 5% di quello che depositate fino a un massimo di 500 dollari ve lo regalano per fare il bonus trading classico, eccetera. Se vi piacciono le opzioni, ovviamente è impossibile non avere questo exchange. Andiamo a vedere la questione di MongoX per quanto riguarda la questione dei rimborsi. Sono stati rimborsati già, hanno trasferito già 47 mila bitcoin, ma secondo me ne hanno trasferite anche di più nella giornata di oggi, e l'effetto è stato questo flash crash del mercato. Attenzione perché, ok, qui molti non comprendono il concetto ciclico che c'è dietro la questione. Ho scritto, ho detto nel mio precedente video, questa ribasso dipende da una questione ciclica, alcuni ne ho scritto no, dipende da MongoX, eccetera. Giusti entrambe le cose. Allora, prima l'uovo o prima la gallina? La questione è la stessa cosa. I cicli influenzano gli eventi o gli eventi influenzano i cicli? Io sono più della seconda ipotesi, secondo me gli eventi influenzano i cicli, però alcuni pensano anche che i cicli influenzano gli eventi. Prima l'uovo o prima la gallina? Nessuno sa questa cosa da cosa arrivi, perché la questione ciclica è di natura emotiva e anche economica, quindi anche scientifico che a livello economico si vadano a innescare delle strutture cicliche, è normalissimo, quindi è una cosa proprio scientifica. D'altronde però anche alcuni eventi particolari, mi immagino la pandemia, eccetera, hanno innescato comunque la questione cicliche, hanno spostato la questione cicliche. Io sono più della secondo a Visaglia, però in sostanza cambia poco, alla fine quello che conta è sempre andare a ragionare dove siamo, che cosa stiamo facendo, quali sono gli scenari possibili, è quello che può accadere. Allora, MongoX, liquidazione è pesante, perché ci sono le vendite, ed è importante andare a ragionare su quante potrebbero essere queste vendite. In pratica è come se all'interno dell'equilibrio di mercato domanda e offerta, a un certo punto si innesca una struttura di un muro di offerta istantaneo che va tutto sul mercato. Perché va sul mercato? Perché i ragazzi di MongoX hanno sequestrato, a piccolette, no? E i Bitcoin ha i loro creditori, lontano 2016-2015, non mi ricordo adesso di preciso la data, ma comunque Bitcoin valeva 600 dollari, ragazzi, circa. Ora vale 60.000 dollari 56, ora, in questo momento. Cioè, capite bene che significa, no? È salito così tanto che quei creditori che erano stati praticamente truffati, a un certo punto si sono trovati nella ipotesi di aver avuto l'obbligo di fare holding di un asset in questo tipo e si sono trovati ricchi all'improvviso, nonostante addirittura il giorno del fallimento probabilmente alcuni di loro dicevano eh, mio Dio, è successo un disastro, un danno. Quel danno si è trasformato nella loro più grande fortuna. Incredibile. Gioco del fato, ma incredibile che avvenga una cosa del genere anche proprio su Bitcoin, no? E su questi mercati. Alla fine, molti di loro venderanno quello che hanno o almeno quasi tutto, no? E magari si terranno qualcosina perché dopo anni e anni di peripezie si trovano ad essere estremamente ricchi, moltissimi di loro. Quindi una sfortuna che si è trasformata in la più grande fortuna di questi creditori. Ora, fintatto che la questione di M.T. Gox non sarà conclusa definitivamente, probabilmente assisteremo a nuove ondate di vendita, però il concetto di base è questo. Ragazzi, allora, muro di offerta da una parte, viene venduto dall'altra, viene accusato dal mercato, vero? Però i mercati liberi, come quello delle criptovalute, a differenza dei mercati classici, che sono quasi sempre manipolati e controllati dalle banche centrali, in questo modo assumono maggiore volatilità, ma più stabilità nel lungo periodo, perché vanno ad inglobare in pancia tutti quelli che sono questi eventi e li scontano istantaneamente, mentre per esempio nei mercati classici, dove molto spesso le banche centrali vanno a manipolare i mercati, fanno in modo che quegli eventi non agiscano nel presente sui mercati e rimandano il problema, che poi magari scoppia in maniera molto più drastica. Invece sui mercati delle cripto, che sono mercati assolutamente più liberi, questo fa sì che si muove tutto prima, però si sconta più velocemente, agisce tutto più velocemente. Vi ricordate, chi di voi c'era, ahimè, anche nella questione del fallimento di FTX, la stessa identica questione, anche Terraluna uguale, no? Stessa identica questione. Anche in questo caso, le vendite di MTGOX sono intanto già conosciute. Secondariamente più iniziano, prima iniziano, meglio è perché? Perché è un fantasma, uno spettro per il mercato. Nel momento in cui il mercato si lascerà alle spalle questa cosa, avrà un peso in meno, e quindi sarà stato bilanciato un blocco di vendite importante, una delle spade di Damoclec che da una vita stanno sul mercato delle cripto, stanno su Bitcoin. Quindi, notizia negativa o positiva? Meglio avere un po' questa botta in questo momento e poi essere puliti dopo, oppure portarcela ancora dietro le spalle con questo spettro, questo fantasmone? A voi la scelta, ma fatemi sapere cosa ne pensate, e soprattutto se quello che stiamo vedendo è un po' l'esplua di questa vendita di Mt. Gox, forse è il caso di metterci una firma, no? Detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' cosa ne pensate voi, andiamo a vedere un po' invece di grafici, graficoni, per andare a capire dove siamo arrivati, che cos'è questa situazione attuale. Allora, il target del arrivo di Bitcoin sotto i 56 mila dollari è stato rispettato da quello che ci siamo detti nella scorsa giornata, qui si aprono due diversi scenari di cui parlerò apertamente, poi lunedì ho già pubblicato diversi video nella mia Academy, stiamo già ragionando su come operare nell'Academy, eccetera, alcune cose sono state fatte in aggiornata di ieri, in loss, oggi invece sembra in gain, vediamo dovrebbe recuperare, ma sostanzialmente questi tipi di operazioni che avvengono in queste fasi devono avere un solo obiettivo, pareggiare i costi, cioè far sì che si possa stare all'interno del mercato in un buon prezzo di ingresso qualora dovesse reversare senza perdite importanti. Questo è il concetto di fondo. Ovviamente, chi è un trader professionista capisce molto bene quello che sto dicendo, non ci interessa far gain con i bassi e alti, ci interessa posizionarci per quello che verrà dopo ed è quello che interessa a me già da un mesetto. A dire la verità, l'arrivo di luglio, ne avevamo parlato, alla fine si è verificato diciamo come mese, giugno-luglio doveva essere il mese un po' più dinamicamente difficile, così sembra essere proprio in questa fase. Ora, ribasso finito oppure ribasso che può continuare ciclicamente, questa cosa non è ancora molto chiara perché intanto la candela di oggi, proprio stamattina, ho pubblicato in Academy un messaggino dove dicevo che se la candela andava a recuperare in settimana quelli che erano i 56k sarebbe stato molto positivo, così sembrerebbe in questo momento mentre sto registrando bisognerà vedere poi i giorni dopo. Una candela che recupera i 56k in questo momento è positiva perché prende tempo. Alla fine la morale della favola era una ragazzi, Bitcoin aveva bisogno di tempo, ve l'ho detto anche negli altri video, non doveva fare grandi movimenti ribassisti, purtroppo l'ha fatto soprattutto nella giornata di ieri e questo non è positivo, oggi è accelerato al ribasso, se riprende questi livelli di prezzo come per esempio i 56k 57k questa zona qui significa che può perdere tempo e fermarsi domani dopo domani che sono sabato e domenica e poi ci pensa la prossima settimana. Attenzione la prossima settimana di cui parliamo appunto lunedì perché è una settimana chiave e decisiva la prima di alcuni periodi ma sicuramente la prima è la settimana prossima settimana chiave e decisiva per il mercato delle cripto che può essere veramente interessantissimo. Comunque lunedì parliamo apertamente anche di questa questione perché oggi volevo farvi vedere anche lo sciacquone che sta arrivando invece sui mercati delle altcoin. Sciacquone importante che non è per niente diciamo positivo ma che comunque va analizzato. Allora la questione ciclica degli annuali del mercato delle altcoin le altcoin sono molto deboli ragazzi allora questo è la mia solito grafico total market cap meno btc meno ethereum più meno le stablecoin trovate il ticker per creare questo grafico nel canale telegram l'ho postato l'altra volta per creare questi grafici in maniera tale che potete ricrearvi lo stesso tipo di grafico e il link in descrizione è gratuito ovviamente il canale telegram allora qui in sostanza c'è un dilemma ciclico non da poco perché se noi facciamo partire il ciclo annuale qui di bitcoin ai 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 questa zona diventa veramente strana e pericolosetta io mi riservo come si dice il diritto di ragionarci sopra perché se l'annuale è partito qui siamo oltre e c'è bisogno di più tempo da un certo punto di vista se invece lo spostiamo allora insomma siamo in tempi tecnici accettabili non mi piace questa configurazione da un punto di vista annuale quindi voglio prima assistere a un'eventuale fase di ripresa delle altcoin per vederci più chiaro non mi piace per niente questa fase perché è troppo ambigua e l'unica questione che mi garba sulle altcoin è l'arrivo all'interno delle due medie mobili quindi è una questione di analisi tecnica non ciclica che sono la 26 e la 52 cioè la media mobile la 52 annuale e la 26 del semestrale l'arrivo all'interno funge da livello di supporto ve ne avevo anche già parlato e soprattutto la discesa al di sotto di questo livello configura un'inversione di trend notevole qui è l'ultima bull run che abbiamo visto l'incrocio di queste due medie mobili ha sancito l'intera bull run ok il touch all'interno di questo frangente ma quando sono state breccate sono invertite quindi sono incrociate e sono invertite eravamo in bear market un eventuale ribasso al di sotto di questo livello va monitorato con cura perché potrebbe innescare un eccessio di ribasso sulle altcoin altcoin che abbiamo visto alcune sono veramente molto deboli hanno fatto anche i nuovi minimi questo ci sta sappiamo bene che il mercato dell'altcoin non ha nulla a che vedere con bitcoin le altcoin possono fallire possono avere una tokenomics che fa schifo possono avere delle difficoltà proprio a livello di progettuale possono scammare possono fare tante cose che bitcoin ovviamente non può fare e in questo caso anche l'andamento dei prezzi ne risente anche per questo motivo alcune però che sono le top in questo momento si sono mantenute per esempio in forze alcune per esempio come Solana ancora non sono così messe maluccio e per esempio hanno dei livelli di pricing che ancora tengono determinati prezzi vi faccio vedere per esempio la questione di Solana dove sei dove sei eccola qui che al momento vedete ancora tiene la barra di congestione questa è un'indicazione di gran forza per una cripto che si è tenuta al di sopra anche di bitcoin stesso cioè è stata più forte di bitcoin anche più forte di alcuni competitor come per esempio bnb che in questo caso ha fatto lo sciacquone ed ethereum che anche ethereum per esempio ha fatto lo sciacquone un po' di più rispetto a Solana ma guardate anche ethereum molto più si sostiene che diciamo non è così debole come sembra alcune invece sono proprio andate a picco per esempio come matic che sta scendendo i minimi addirittura del 2022 e parlo delle altcoin che sono le più forti alcune che invece sono un pochettino più deboli si sono rinfilate in questa barra di congestione come unisguop o altre addirittura hanno fatto nuovi minimi quindi altcoin da monitorare ne parliamo la prossima settimana bitcoin questo livello di minimo può essere interessantissimo è stato raggiunto un prezzo interessante cioè la rottura dei 56 che era la conferma ciclica quindi ciclicamente abbiamo tutti i dati messi a posto siamo un po' prematuri siamo un po' troppo avanti col tempo cioè troppo non avanti troppo indietro col tempo cioè se vivono ancora un po' di giorni vediamo se bitcoin li fa in barra di congestione se dà un po' qualche segnale di ripresa fatemi sapere anche voi cosa ne pensate questo effetto mongox finirà proprio così ce lo siamo giocati così e wow se ce lo siamo giocati così io vi ripeto ci metto una firma buon fine settimana a tutti buon weekend sbevazzate divertitevi non pensate tanto ai mercati ciao a tutti 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 ciao a tutti